Regà sfondo tutto, sfondo tutto, fanculo, date, pronti, pronti, pronti ad entrare Gabbo, Gabbo sei pronto? 3, 2, 1, non è vero, sbaglio il tasto, 3, 2, 1 Regà io vi direi prendiamo le torce perché quando ci perdiamo spammiamo le torce da una porta per far capire che siamo noi Allora io già ci ho giocato, se volete faccio io la mirror gun così vi spiego un pochino, cioè noi abbiamo giocato proprio missioni quelle toste in culo Allora piccola cosa per voi interessante, allora io prendo la mirror gun, basta uno con la mirror gun Giochiamo senza gli shield perché sono broken gli shield ve lo dico, sono proprio, veramente sono una roba rotta Poi un'altra cosa qua dovete scegliere voi, ora, perché ve lo dico a voi, se avere la lockpick gun o no Perché? Perché quando tu disinneschi qualcosa, tipo una porta che è chiusa, una trappola così, ti sentono Servirebbe qualcuno col battering ram per aprire le porte in modo cattivo, così quando facciamo tipo una swattata in Io mi sono messi C2, che sono i C4 quelli da per bricciare le porte E serve qualcuno che si metti wedge Allora se l'armatura pesante è veramente pesante, non vi muovete, però vi giuro che tanca in sto gioco In base al materiale che scegliete dell'armatura, tancate più colpi Altra cosa, sotto avete la tipologia di colpi che spara la vostra arma Gli AP penetrano corazze, vabbè, tipo Tarkov, penetrano tutto, pure oggetti e roba varia In base al calibro della vostra arma Ovviamente se spari 9mm non buca quanto un calibro 300 o un calibro 7,62 e roba varia Poi ci sono pure però le munizioni, quelle per evitare danno, perché ti spiego qual è il problema Ma se io spari un colpa 1, lo buca da parte a parte, entra dentro un muro e buca e uccide un civile Capito? Può succedere? Allora chi fa il tizio che starà dietro a tutti, che coprirà dietro, è quello che ce la farà la responsabilità più grande Perché flancano come dei bastardi qui, eh Non ci credo, ma ora l'hanno fatte così le missioni? Regà, prima le missioni tu sceglievi la mappa e avevi le modalità Ora invece c'è solo la mappa, con la situazione Facciamo una facile all'inizio Sì sì zio, inventiamoci un attimo Eh perché guarda che moriremo un po' di volte, ma allo start perché ci spariamo addosso Perché a volte ci dovremo dividere in due e due Allora ragazzi, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, allora, allora Quali cazzo sono le regole d'ingaggio? Le decidiamo noi Che è sto tablet? Non lo so, aspetta Con tab, oddio, tieni per la tab E ora? Ok Allora, mission brief, listen up Abbiamo ricevuto molteplici call dal 911 del 4U gas station Nella 5th di Van Drake's outside Crediamo che stanna ruba tutto e ci sono moltiplici sospetti armati Trova Crystal Layton Ma basta che le leggo a destra, sono un coglione Oh bro, ma c'è la voce che parla Aspettate, abbiamo una mappa pure Oh regà, premetti su camera in basso a sinistra Queste sono le camere vostre, ok Allora, il gioco ci consiglia di entrare dalla cucina Test torce Controllate se avete, se dovete cambiare il radio di fuoco Allora, chi fa il chiudifila? Qui l'accendeva la torcia Ho sentito in fondo a sinistra gente, eh No, hai ragione Ero io, ero io, ero io Chi cazzo L'hai da un lato voi? Qua è Felsi Sì, ho detto fammi vedere le mani Merda Così? Orco 2, regà Orco 2 Sospetto giù Uno giù, uno giù, uno giù, uno giù Porco 2, che paura Mi sono cagato sotto Uno con me, uno con me ragazzi Chi viene? Viene Gabbo Ok, voi tenete la porta Gabbo c'è uno Porco 2, che male Mi hanno fatto malissimo Gabbo Chi è questo? Slitta chiunque sta guardando Axel, guardo io la porta C'è uno, c'è uno davanti a me Lo sto mirando Gabbo Te lo tengo Vai Regà avanzate Uno guardi sempre la porta Oh Ma che Cristo di Dio di paura Sta cazzo di roba Mi sono cagato sotto Allora regà vado a controllare Vado a controllare con la gun Allora ragazzi Qua sembra Allora c'è qualcuno sulla destra Quello che facciamo è Apriamo la porta Flashbang dentro Entriamo Io guardo a sinistra Gabbo guarda subito a destra Gli dice di posare l'arma Non so se C'è l'arma È armato È armato Dai lui Regà sfondo tutto Sfondo tutto Fanculo Date Pronti 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 a entrare Gabbo Gabbo sei pronto? 3 2 2 1 Non è vero Sbaglio tasto 3 2 1 Di di posare giù l'arma Di di posare Fermo 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 Bro No Bro No Che erano le regole di ingaggio Bro Non era a sparare a tutti Bro Sta resistendo Porco 2 Sta resistendo Figlio di puttana Non era a uccidere tutti Era Gio Non sei un poliziotto americano Sono un poliziotto americano Un simulatore di SWAT Raga fermi Raga qualcuno Deve Ho fatto il giro da destra Bro dove cazzo sei arrivato tu Ma io qua non c'è Porta Porta C'è gente morto Morta Eh ma Porco 2 Gabbo dove è andato Ma dov'è gamba raga Non lo so Sto facendo il flash con la luce Gabba dove sei andato Ci dobbiamo fermare nella stanza Ma come a destra Ma questo qui Senti Delu Non ci sono più nemici Ragazzi Gabba è morto Perfetto Come Gabba è morta Io lo do per morta Non vado a prenderla Gamba quando si entra Si sta in una stanza E ci si ferma Non possiamo andare avanti così Ok Sei partito Noi ti abbiamo perso Ci hanno lasciato tutti Che cazzo ci è andato No non ci sono Tutta adesso Vai facciamo l'obiettivo Qua c'è un morto Giù hai stirato un civile mortacci tu Io non ho stirato nessun civile Ragazzi questo bravo che c'era sulla schiena era un civile Com'era un civile Ma si non c'ha armi Bro si alza No non è vero Si alza e ha cominciato a correre Ha resistito No no bro guarda l'arma Guarda l'arma Guarda l'arma Guarda qua Guarda qua C'è una bambina Una bambina Una bambina rega Non sto scherzando C'è una bambina in sto gioco Regà mi fanno paura i bambini ai videogiochi Devo sparare? Non credo No E allora cosa ci manca di obiettivi soci Store manager Trovate lo store manager Trovate il cadavere dello store manager Fermo Ma che me lo ti ha chiesto tu eh Comunque gamba non si va mai in giro così Mo' perché questa commissione era facile Tu sei partita e cominciato a correre come una scilla Il store manager è morto Abbiamo finito ragazzi Vediamo quanti punti abbiamo fatto Tipo due Gio Eh ma sono anche un cristiano che si erano arresi Bro non si erano arreso Tu gli hai sparato che si è arreso Axel Io no Io ho sparato uno che correva E ha resistito No gli hai detto tre volte sei fermo Gli ho detto 18 Gli ho detto Gli ho spammato Ma merita Eh vedi questo è quello tuo No Ma li togli anche a me Li togli a tutti Li togli a tutti Facciamo una missione più difficile Io ho forza violenta Io ho forza mortale Allora Dobbiamo cercare di fare stanza per stanza piano piano Perché mo questa era stupida Ma quando arriviamo a quelle tipo Dove ci stanno 50 100 nemici Tu saresti morto e ci avrebbero lasciato 23 megabit al secondo Michael Williams ha ucciso sua madre E ha preso il suo Giovane fratellino in ostaggio Los Angeles Police Department È stato tascato De risponde Muovetevi velocemente Ragazzi Se facessero la collab con Speed E fanno SWAT allo streamer E mettono Speed Impazzirei E poi questo l'hanno fatto apposta Per i meme Del Come si chiama Sì dello SWAT Meme Poi vabbè Allora aspettate Brief Arresta e neutralizza Ogni contatto Arresta Michele E assicura Tutti i civili Ok regole Non c'è stanno Le regole di ingaggio Lo sai quale sono Metti full auto Vaffanculo Allora aprite la cam Su un vostro socio Guarda c'è la foto Dello streamer ciccione Dove E se tu mission brief Suspect Michael Williams Fammi vedere Questo è roster Brief Dove la vedi la foto È sopra Sopra mission brief C'è scritto suspect Cilillian e media È vero Ok C'è pure i capelli colorati Sto coglione Ecco i civili Abbiamo due civili sicuri E gli altri non li sappiamo Ragazzi ma nei civili Guarda il bambino Con la maglietta del Napoli Impazzisco È vera La maglietta del Napoli Lo dici tu Siamo pronti ad andare Sono cibollenti Allora fermi Piano 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 Chi è quello davanti Che è impazzito Giù le cazzo di ginocchia Stronzo Vai 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 Ammanettalo 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 Guardo le scale Facciamo piano per piano Axel ti è Allora Io e Dello andiamo a sinistra E Axel Gabot a destra 3 2 Da dove? Da sopra credo È l'amico degli stream Da sopra È morto Io ne ho uno da me Sto salendo Copro dietro Morto uno Uno l'ho fatto io Ok Ma Axel è morto? No no Sono vivo No regà Non deve sparare La gente a terra Porta a sinistra Fatto Guarda sopra Bravo Guardami a destra Gabo guardo io lì Ho un braccio rotto io Aspetta avanzo io Guardo io la porta Guardi io la porta Da voi Fermi Fermi La voglio chiudere Altaggio Vai chiudirà Mi sei davanti Delu Delu mi sei passato Mi da un fuggito C'è uno C'è uno Aspetta che mi spacco la porta Ne Sulle Devi sparare sul cardino Ce l'ho E' una flashbang Fatto fatto Arresta questo Delu Guardo io Aspetta non è entrato Non è entrato Non è entrato Lo trovo la porta Gamba Regà guardate sopra Guardate sopra Tiro una flashbang Tiro una flashbang Per clearare E chi è questo Dantemi gamba Gamba Pronta ad entrare Dopo la flash Pronto Flash dentro Vai Porco zio ragazzi Sono certo No non sparagli Non sparagli Fermo No Eh ma si stava Possendo a terra L'arma Merda Dovi e te a sinistra vai Vado vado a sinistra Clear sinistra Entro Eeeh pulito C'è un balcone Delu raggiungici Ragazzi quello che avevano Sparato sopra Non era morto Merda E' morto ora Eh li ho inzippettati Sì Ok Eh magari era solo Ho bisogno di uno con me Per clearare il balcone Arrivo Uno rimanga nella stanza Se arriva qualcuno Sono con qualcuno Ah vado io Ok c'è un'altra rampa di scale Qua ragazzi Check caricatori In che posto Sì Sì vai Allora chiudiamo questa porta E mettiamo un wedge Per bloccarla Blocchiamola Vai mettete voi Mettete voi Cioè wedge io Vado io Allora uno C'è mancia granate Uno rimanga Ok uno rimanga qui a coprire E noi saliamo per ora Balcone Attenzione balconi Messo il wedge Grazie a chi mi sta coprendo Vado sopra Checco sotto Rimango chiudere la fila Come sempre Ok Sto salendo piano piano Io Chi è il penulti Chi è il penultimo Dietro di match Gamba Sì Ma le host Sono incredibili Sì vero Ok guardandomi a destra Guarda a sinistra Io Faccio io a destra Allora Continuo a guardarmi a destra Vado subito a sinistra Io c'ho un'altra rampa di scale Vado Uno con me Rega per fuori Che è clear Clear Allora guardate la porta Lì davanti che è aperta Guardo sotto Quello che Guardo sotto Quello che accade Allora la stanza Pari clear Dobbiamo fare una cosa Il primo che entra Va subito a destra Ok è una stanza Rettangolo Aspetta No 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 Ok Bricciamo con il martello Il primo che vuole entrare Gamba Vai subito a destra E holda Io e Axel Andiamo a sinistra Ok Pronti Aspetta 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 Gamba È il primo che entra Vado Vai Ok fermatevi tutti C'è una tizia C'è una tizia Che mi è passata davanti Dovrebbe essere la madre What the fuck Come la madre Ho bisogno di una flashbang In fondo alla stanza Vado Vado Tenete la porta a destra Poi Vado Con me Delu Con me Delu Arrivo Con la porta a destra Io Ho bisogno Di swipare Di Ho bisogno Ho bisogno che uno Viene con me Sono con te Sono con te C'è una persona Holdo io la porta Si arresa Copro il balcone Non c'è nessuno Vai Sono io Che chiudo Ok Potrebbero fare qualcosa di strano Tento gamba a stare così che guardi noi Perché se c'è una porta dietro ci possono passare Avete clearato tutta la cucina Sì sì non c'è niente Ok Guardo Se la cucina è clear Allora qua si ritorna Dove stavamo prima Però dall'alto Ok Check caricatori Apro? No no Qua l'apriamo normale Ok Va bene Allora chiudo fila come sempre Chi c'ha la lockpick gun? Nessuno mi sa Io? Vai vai Apri allora Apri con la lockpick Allora apro normale io Apro 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 io apro io Ok Ok Allora apro piano eh Chiudo fila io eh ragazzi C'è uno morto Guarda a sinistra io Eh ma allungo a destra Tutti sono dietro giù Prendete Bloccate quel tipo Blocca questa porta Adelu Blocca questa porta Sì sì Arrivo col web Miro le scale Bravo Miro le scale Vado a vedere sopra Non si può passare Ok scendiamo ora di nuovo da di qua E poi ritassaliamo sopra Che non abbiamo clearato tutto secondo me Qui ragazzi c'è una catena con Un coso per salire sopra Ma non so se Ma non è lo streamer scusami Eh ma lo dobbiamo Dobbiamo svuotare stanza Dobbiamo controllare tutto Sotto 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 Occhio occhio Non passare in team Nella linea di fuoco Uno Uno fatto Mi ha fatto male una gamba Ok Mi metto qua Non posso curarmi vero? No Ok Ok qui da dove siamo venuti noi Ok andiamo sotto a clearare allora E poi risaliamo sopra Alla porta bloccata Chi è il primo della fila? E' Axel Ah se tu ok vai Trovate mi a destra Vai 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 Porco che paura ti stavo per sparare gamba Per cambio di disposizione non vedo niente Cleariamo di nuovo tutto Cleariamo di nuovo tutto regalo Libero Se permette il tasto Quello là dell'Oureti Abbassate l'arma Andate più veloci Vai blocchiamolo Infatti ora risaliamo da di qua Vai Non stiamo giocando male Dobbiamo usare meno la forza letale Però Ci siamo Solo se sei gravamente ferito Devi premere un tasto Per entrare Per evitare di morire Guardami a destra Chi è questo qua davanti? Tu Delu Fermo fermo Delu 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 Quando arriviamo così Io vado a destra Tu vai a sinistra Ok Ok vai 3 2 1 Vai Porta da me Porta da me Porta da me Controllo sempre a sinistra Uno controlla Uno controlla dietro Controllo io dietro Controlla le scale dietro Ok raga Qua abbiamo già clearato Non lo so se abbiamo clearato qua C'è un cadavere Che è questo? Gabbo spostati perché sei in mezzo Non posso coprirmi Raga Ehm Lì non ci siamo passati Potrebbe essere Briccia Bricciamo Esatto Bricciamo con il mart- Capisco Entriamo No dove stavamo prima Ok Siamo Ok Niente Si torna su Vai vai Sì sì E beh ma dobbiamo stare attenti Perché si nascondono Bisogna fare un check sempre tu Ma sicuri che non è da fare niente lì? No Ci siamo andati prima Vai vai go sopra Go sopra Vai Ok allora sarà sai dove? Dove stiamo tornando dove eravamo prima Venite Eh ma non si può strisciare raga? No No Peccato perché c'era un Un buco? Mhm Allora ragazzi Io ora guarderò dentro Qua ora organizziamo con do Attenzione Aspetta aspetta No 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 fermi Togli Non toglierlo Non toglierlo Oggi è che avete uno ritorcio comunque C'è gente Allora È un corridoio Cerco di spiegarvelo È un corridoio Subito come entriamo sulla sinistra C'è una porta Dopo c'è un'altra porta sulla destra E poi c'è quello che credo sia un salone Ok Allora se facciamo così Spacca la porta Entra nella porta a sinistra C2 C2 Flashbang dritta frontale davanti a noi La tira gamba se ce l'ha Dritta frontale come esplode la porta Dale Windtrip va nel bagno a sinistra E noi tutti ci fermiamo e guardiamo davanti a noi Ok bravi Ok Se vuoi io ho il lancio flashbang Venga proprio la gamba Allora fai tu Fai tu Che fai più veloce Ok Piazzo Piazzo il C2 Non serve Non serve La porta la facciamo saltare Potete stare vicini alla porta L'esplosione L'esplosione è frontale Ok Quando vuoi Gamba vieni dietro di me Sì Ok Tu Delu Dei più vicino alla porta 3 2 1 Vai subito a sinistra Orco 2 Axel l'ha tirato malissimo Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Vai dentro Vai dentro Fermi tu Fatto un altro Guardate Un concorri d'agli ragazzi Vedo Gesù Bro ho ammazzato lo streamer Hai ammazzato lo streamer Bro ho droppato lo streamer Aveva una pistola? Aspetta potrebbe esserci qualcun altro Fermi tutti Fermi Fermi Fermo 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 Tiro una flash in fondo Ok Vai Go 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 Vai a destra Gabbo Andate andate Chiudo fino Chiudo fino Chiudo fino Vai andate a destra Che li rodo a destra Oddio c'è Osiman qua Ammalizosi man Voleva andare via dal Napoli Ragazzi Dal bagno ancora fatto di flash Vengo visto una troia sul divano Invece Un cazzo Great work Keep going Abbiamo finito tutto Hai ammazzato lo streamer Che cazzo vi devo dire mi ha sparato Bro guarda Guarda Vengene un dragon raga Che figo Ma guardate che bella sta stanza Venite qui Abbiamo complato la missione Guardate qua la stanza che bella raga Mica non fate di Cristo Cazzo che bella postazione che ha raga Guarda che figo c'è la cam qui Bro ma che figata Ma che cazzo è in live Guarda Dove Dove sta Arrivò Guarda che spammano F perché siamo arrivati noi Dove Prova a sparare la cam No non si rompe Peccato L'ho rotta veramente Non ci credo raga Ma che discord Sto stai dicendo Ma che c'è discord Che cosa stanno dicendo Eh scrivono roba Bad boys Bad boys What you gonna do When they come for you Get shot You deserve it C'è scritto Uno gli ha detto In verità era da arrestare Ragione Ho capito ma mi ha sparato Il figlio di putt Aia porco Mi hanno twittato Ma se è sparato questo E' anche lo stream deck Raga ma c'è tutto Vabbè raga Vodiamo yes Per finire Andiamo a fare le missioni Quelle più complesse Ma che figata raga Ste cose Oh guarda qua Oh però a me Michele Sì arresta Michele A me mi ha sparato Michele Mi ha hittato il braccio C'è il braccio rosso Michele non doveva sparare Per non essere sparato Ma non è che Ma non è che è Michael Cioè questa era la stanza Dalinato 90 Eh potrebbe essere Abbiamo sbottato Abbiamo sbottato Dalinato 90